musica 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 ciao gentaglia sono shuta hate you questo è breaking italy bentornati il freddo è peggio di ieri non so come sia possibile ma è accaduto quindi spero che nonostante il freddo abbiate passato un buon martedì parliamo dell'olocausto oggi è il giorno della memoria significa che il 27 gennaio del 1945 ovvero 70 anni fa che può sembrare tanto ma se ci pensiamo bene così così visto che mia nonna aveva tipo 20 anni aprivano le porte di auschwitz possiamo renderci conto del fatto che non è una roba così lontana è successa l'altro ieri e potrebbe ricapitare perché il punto del giorno della memoria senza girarci tanto attorno è che questa giornata potrebbe essere tranquillamente definita il giorno del hashtag non facciamolo mai più mai ok perfetto e gli ebrei sono ancora brutti e ci stanno antipatici stesse ragioni per le quali erano considerati brutti e antipatici dalla maggior parte delle persone in europa ovvero dei pregiudizi si applica a loro si applica i rom si applica ai sinti si applica a tutte le persone che sono state in un certo momento della loro vita perseguitate per il semplice fatto di essere ed è proprio qui che cerchiamo di dire giorno della memoria abbiamo raggiunto a un certo punto il fondo del barile proprio lo abbiamo raschiato con le mani tutti quanti come esseri umani e le foibe le foibe per chi non lo sapesse sono queste robe qua sono degli enormi buchi che stanno principalmente in venezia giulia e la gente le chiama foibe da tempo anche se ormai il termine foibe è diventato qualcosa del tipo si ma anche loro hanno ucciso la gente e nessuno lo dice riferendosi al fatto che alla fine della seconda guerra mondiale i gruppi di partigiani che facevano parte della resistenza antifascista proprio precisamente nella zona del fluo di venezia giulia dove stanno ste foibe si macchiò dell'omicidio di un sacco di italiani quindi ecco come immediatamente tutto il discorso del giorno della memoria che non dovrebbe essere politico diventa politico perché anche i comunisti hanno ucciso la gente specie gli italiani ed è vero ci sono numeri molto differenti ovviamente da una parte l'olocausto ha visto la morte di milioni di ebrei dall'altra parte si ipotizza che negli episodi delle foibe furono circa undicimila ora ovviamente contare chi ha più morti non ha senso è una cosa stupida da fare ma è per questo che quando si parla delle foibe si parla di un massacro e quando si parla dell'olocausto si parla di holocausto cerchiamo di abbracciare tutti quanti il fatto che di nuovo hashtag non lo facciamo davvero 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 più attenzione è davvero sbagliato ricordandoci comunque che non abbiamo imparato niente quello che è successo per mano dei tedeschi e dei loro alleati durante la seconda guerra mondiale potrebbe capitare di nuovo ovunque in qualsiasi momento ma perché allora l'olocausto ha un giorno nel quale si piangono quei morti in particolare e le foibe no non sai rispondere a questa non sai rispondere a questa il giorno della commemorazione delle foibe e il 10 febbraio che è peraltro un giorno prima del mio compleanno quindi è impossibile dimenticarselo parlando di altre cose che ho trovato fantastiche in giornata la buzzfeed si buzzfeed ha fatto un video che ho trovato molto carino e che mostra quelle che dovrebbero essere tramite delle modelle e dei disegni a fianco le varie evoluzioni di quello che è stato considerato nel corso della storia il perfetto corpo femminile ed è interessante vedere come le differenze siano abbastanza importanti ad esempio tra la perfetta donna egiziana e la perfetta donna italiana e poi negli ultimi anni ci sono stati dei veloci cambiamenti e soprattutto per tutti quelli che stanno per dire ma che vergogna adesso le donne si fanno gli interventi chirurgici per sembrare più vicine a quei modelli è vero però lo si faceva anche prima ad esempio mettendosi dei corpetti strettissimi in modo da modificare completamente la struttura del corpo che è già qualcosa di spaventosissimo o addirittura e mi riferisco alle donne asiatiche fasciandosi i piedi perché i piedi piccoli erano belli e quindi causandosi delle mutilazioni orribili se non mi credeste fate qualche ricerca su google rimarrete terrorizzati in altre fantastiche news che arrivano dagli Stati Uniti una donna, precisamente questa donna, una blogger è al centro di un incredibile macello e non capisco bene quale sia il problema quindi ne parliamo subito prima che la notizia arrivi anche in Italia venga attitolata in modo ridicolo commentata in modo ridicolo e trasformata in una barzelletta come al solito perché questa donna è una persona che ha un blog nel quale parla della sua vita di Dio, visto che Cristiana è particolarmente devota dei suoi figli, delle sue scelte di vita della sua visione del mondo insomma ha un blog e quindi dice cose esattamente come faccio io più o meno, solo che io lo faccio in video sotto accusa per il fatto di aver scritto un post nel quale diceva io non indosserò più i leggings perché secondo me quando gli indosso gli altri uomini mi guardano e quando dico guardano intendo guardano nel senso nel quale la donna ritiene che non dovrebbe essere guardata se non da suo marito e il mondo è esploso perché evidentemente viviamo in una società nella quale tutti devono criticare il comportamento di tutti specie se sei su internet poco importa che effettivamente in questo momento tantissimi sbandierino al cielo la propria bandiera di libertà e quella di Gesù Charlie però poi quando qualcuno effettivamente sceglie di vestirsi come vuole vergogna come osi dire a noi come dovremmo vestirci perché apparentemente il discorso è quello perché attorno al vestirsi c'è sempre un enorme quantitativo di giudizio è evidente infatti che spesso le persone si vestano in un certo modo per cercare l'approvazione degli altri e nel momento nel quale io dovessi dire ed è vero perché non lo faccio perché non ho il fisico e quindi non mi sembra il caso io non indosso cannottiere tipo wife beat e robe di questo tipo non vedo quale sarebbe il problema non sto dicendo a chi le indossa di non indossarli o che non dovrebbe farlo però mi raccomando è libertà soprattutto libertà quindi tutti sul blog a dire buuuu non vuoi indossare i leggings buuuu insomma c'è questo mi ha fatto particolarmente a dire non dovevo dedicargli così tanto spazio ma ormai è andata e c'è anche questa roba qui che è un aggiornamento la ragazza vi ricordate quella del progetto del datemi dei soldi e io mi tatuo il vostro nome ha fatto un video per rispondere alle moltissime critiche che le sono piovute da tutte le parti anche da un popolare canale di youtube che si chiama The Young Turks descrivendo come questo media come tanti altri media non solo abbiano giudicato negativamente la sua scelta e vabbè ognuno ha un'opinione sulle cose anche la mia è molto negativa in merito a questo progetto ma si siano spinti anche a giudicare la persona stessa definendola pazza definendola poco attraente insomma c'è questo vi lascio il blog in descrizione nel quale è risposto a tutte queste cose è interessante in ultimo gentaglia parliamo delle mie persone preferite che sono delle persone che uccidono altre persone e già questo dovrebbe rendere tutto questo discorso abbastanza imbarazzante questo è un pessimo pessimo inizio mi sto riferendo ai peshmerga curdi per chi non lo sapesse i peshmerga sono dei tizi e delle tizie che rende tutto fantastico proprio per il fatto che si oppongono all'isis che combattono appunto il califatto islamico specialmente nella zona del Kurdistan ma soprattutto nella città chiave di Kobane abbiamo infatti spessissimo parlato di questa città e tre mesi fa era andata per spacciata perché lo stato islamico stava conquistando praticamente tutto il territorio e a rallentare l'avanzata c'era poca gente e tra questa poca gente appunto i combattenti che però dopo aver sostenuto un assedio durato tre mesi che è folle sono riusciti apparentemente a riprendere completamente il controllo della città per chi non si ricordasse bene queste persone sono quelle alle quali noi noi europei perché poi gli italiani anche gli italiani però poi c'è stata tutta la polemica non so se vi ricordate hanno mandato delle armi per fronteggiare appunto l'isis e poi hanno anche aiutato con dei bombardamenti e degli attacchi con i droni in modo da evitare di doversi impegnare di più con uno sbarco di truppe direttamente per combattere lo stato islamico poi c'è stato tutto il problema relativo al fatto che i kurdi che stanno aiutando l'occidente non sono ben visti dalla Turchia che fa parte della Nato come molti paesi dell'occidente ma allo stesso momento è spesso accusata di aver aiutato comunque di guardare con buon occhio lo stato islamico si sarebbero ritirati peraltro lasciando una città in rovina quasi completamente distrutta ma questo gentaglia è tutto quello che avevo da dirvi per oggi grazie per aver guardato grazie innanzitutto a Ghirian che mi ha mandato questa foto e ti ringrazio particolarmente perché mi ha scritto una bellissima lunghissima email in merito a cosa significa per lei avere 21 anni venire dal Bangladesh ma stare in Italia studiare lavorare e venire a contatto con un sacco di pregiudizi in merito al fatto che lei è musulmana eccetera eccetera il fatto che non indossi il velo insomma robe fantastiche grazie mille Ghirian e grazie mille a tutti voi per aver guardato sino a qui io sono Shooter Hates You questo era Breaking Italy ci vediamo domani grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti